Grazie Presidente. È inconcepibile che un Parlamento che rappresenta 500 milioni di persone, l'unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, non abbia il potere di proporre pienamente disegni di legge in autonomia. L'Unione Europea è certamente un'organizzazione atipica, un vero e proprio esperimento politico in continua evoluzione perché si deve adattare a un mondo che cambia, ma adesso serve fare un passo ulteriore in avanti. Domani voteremo una risoluzione che chiede di modificare i trattati e dare il via alla Convenzione per una nuova Europa. E voteremo anche questa relazione, dall'importanza cruciale collegata sul diritto di iniziativa del Parlamento europeo, un tassello fondamentale per ribilanciare a favore dei cittadini l'equilibrio istituzionale rispetto alla Commissione e al Consiglio. Una richiesta che è stata espressa proprio dai cittadini durante la conferenza sul futuro dell'Europa, un impegno che dobbiamo onorare. Nel documento mettiamo nero su bianco un vero e proprio mandato negoziale chiaro. Alla prossima revisione dei trattati il Parlamento europeo deve avere un diritto pieno e diretto di iniziativa legislativa, ma è fondamentale allo stesso tempo rafforzare le attuali modalità attraverso le quali il Parlamento europeo esercita comunque un diritto di iniziativa indiretto. La Presidente von der Leyen ha promesso di rispondere sempre alle richieste del Parlamento europeo adottate nelle nostre risoluzioni di iniziativa legislativa. Non basta, dobbiamo pretendere di più, dobbiamo avere la garanzia legale che ciò accada ed è questo che chiediamo nella richiesta di una revisione dell'accordo quadro del 2010. Concludo sul tema della procedura di iniziativa per lo Stato di diritto a norma dell'articolo 7 del Trattato. È uno scandalo che le ripetute azioni del Parlamento europeo siano cadute nel vuoto delle cancellerie degli Stati membri che ci rendono corresponsabili di abusi di diritto e di diritti. Ragione in più per riposizionare l'Eurocamera al centro dell'attività non soltanto legislativa, ma anche politica di tutela fondamentale dei cittadini di tutta l'Unione. È il momento di cambiare le cose. Grazie.